per annabelle è ora della nanna si sta già stropicciando gli occhietti brava andiamo a letto girati su un fianco e dormi che c'è annabelle adesso ti cullo un po guarda il tuo sonaglio dormi non riesci ad addormentarti annabelle forse è scomodo il cuscino allora lo cambiamo non piangere so io che cosa ti serve guarda annabelle c'è una sorpresa per te indovina che cosa c'è dentro apriamola è un orsetto pelus ciao facciamo amicizia io stai simpatica annabelle mettiti giù e l'orsacchiotto dormirà con te dormi annabelle e questa è una lucetta notturna per te buonanotte wow ciao 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 ciao